Cari amici, questo è un video estremamente importante, forse uno dei più importanti che ho mai fatto. Come vi ricorderete, chi mi segue sicuramente se ne ricorderà, c'è una causa in corso davanti alla Corte dell'Appello di Genova dove ho citato e convenuto quindi in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri per fare accertare l'illegittimità costituzionale delle leggi di ratifica dei trattati internazionali, in particolare ovviamente Maastricht, Lisbona e successivi, in quanto costituiscono un'accessione illegittima della nostra sovranità. Ora, se questo governo in buona fede, io non credo, ha la strada spianata a questo punto per tentare una via per uscire dall'euro attraverso la Corte Costituzionale come la causa è già pendente, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in allora ovviamente non era il governo Conte ma i suoi predecessori, si erano difesi attraverso l'Avvocatura chiedendo il rigetto della mia domanda, sostenendo che la sovranità non è ceduta e che in ogni caso i trattati europei sono stupendi e vanno benissimo. Bene, ora l'Avvocatura di Stato di questo governo, del governo Conte, può dimostrare la propria buona fede, quindi il governo può dimostrare che vuole davvero, come dicono tanti sovranisti che parlano di strategia, lasciare l'euro, cambiando le difese in questo giudizio. Basta semplicemente in questa causa dire che l'Avvocato Mori ha perfettamente ragione, i trattati costituiscono illegittime cessioni della sovranità, andiamo in corte costituzionale perché le leggi ratifica sono illegittime. Il governo in buona fede può dimostrarlo, se il governo continuerà a difendersi anche in questa causa, continuerà a ribadire che la sovranità non è ceduta, beh, cari sovranisti, il blef è svelato. Un saluto a tutti e diffondete il più possibile questo video che manderò anche ai vari ministri, i componenti del governo, perché a questo punto questa è una sfida aperta. La causa c'è già, sostengo che la sovranità è stata legittimamente ceduta, questi sono sovranisti, beh, che lo dimostrino, c'è l'occasione che smettano di far difendere l'Avvocatura contro di me, contro la sovranità nazionale, contro il popolo italiano. Un caro saluto.